Musica Ciao, oggi vi parliamo di AdMap e vediamo insieme che cosa c'è di nuovo. L'attore è dedicato ai fuoristradisti, è scopato insieme alla Federazione Italiana Fuoristrada. La particolarità è che integra alle mappe teleatlas le mappe dell'Igm, dell'Istituto Geografico Militare. Per farvi capire, questo è quello che io vedrei nel navigatore normale che ha solo i dati teleatlas, mentre se vado ad abilitare nel menu funzioni 4x4 la mappa Igm, questo è il risultato che ho. Quindi molto più dettagliata, vedo delle mulettiere, dei sentieri che non sono presenti nella cartografia teleatlas. Ma non è solo questa la particolarità, sono proprio anche le funzioni software sviluppate appositamente per la navigazione fuoristrada, ovvero per esempio la bussola a schermo intero, il navigatore normale ce l'ha, di solito una piccola iconcina in un angolino, cioè questa è tutta un'altra cosa. O il Tripmaster, questo è uno strumento fondamentale per chi va fuoristrada, perché è in pratica un nodometro in metri però, che misura i metri percorsi e si può azzerare, quindi mi dà il parziale del totale. È un prodotto sviluppato insieme a Kenwood USA, già da diversi anni inizio con la serie Geosat 2, Geosat 4 e adesso con il Geosat 5, PRS. Il GPS comunica la posizione alla radio che trasmetta le altre radio e posso visualizzare sullo schermo quindi tutti gli utenti che stanno trasmettendo. Questa è un nuovo mercato assolutamente e si tratta di agricoltura intelligente. Con questo sistema mi riesce a indicare quanto mi sto discostando dalle linee guida con una precisione di 20 cm. Alcuni trattori hanno questa barra spruzzatrice che può essere larga fino a 15 metri. Fino adesso il guidatore doveva regolarsi a occhio, quindi dovendo girare per il campo doveva più o meno regolarsi. Ma era molto facile sbagliare, ovvero passare due volte sulla stessa tratto. Quindi succedeva che un'area veniva fertilizzata due volte con un conseguente spreco di materiale, ma non solo se ci si brucia proprio il raccolto. Quindi questa è l'EKP Mid, è la versione più professionale che tra l'altro è utilizzata da molte forze d'ordine, i reparti di volo di carabinieri, di polizia, di fuoco. Il pilota privato non usa perché il pilota privato può andare a notte mentre digitare sono. Mentre questo è un po' il fratello minore dell'EKP, il Joe Pilot, che è una versione molto più compatta, adatta a un cockpit a periodo volti come negli agli alti o anche con gli elicotteri con molto spazio. Ma le funzioni di software sono molto simili. Schiaccio on, successivamente un'altra volta, attendere, si inserisce la cannuccia e si soffre per 10 secondi. Calcolo? No, non è più. Cos'è 4,48? Zero enti, zero. Per qualsiasi informazione, una bella mail e noi vi rispondiamo. Ciao!